Buonasera e benvenuti al primo incontro di un percorso in cinque tappe dal titolo scuola e intelligenza artificiale. Io sono Carmela Favarulo e in Coop mi occupo di attività e iniziative sociali tra cui i progetti di educazione a un consumo consapevole alla cittadinanza attiva che Coop da oltre 40 anni offre alle scuole di ogni ordine e grado. Oggi siamo qui per un percorso sul tema dell'intelligenza artificiale che abbiamo realizzato in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze. Una collaborazione nata già nel 2020 in piena pandemia quando progettammo e realizzammo un percorso molto partecipato sulle metodologie a supporto della didattica digitale. Oggi il tema dell'intelligenza artificiale è un tema di assoluto interesse attualità e pensiamo anche che capirne la grammatica sia cruciale e che la scuola possa svolgere un ruolo importante proprio in un percorso di alfabetizzazione su questa tematica. E allora ancora in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze vi presento i relatori, la professoressa Maria Ranieri, professoressa ordinaria che insegna didattica e tecnologie dell'istruzione, l'ingegnere Stefano Cuomo, esperto in intelligenza artificiale, insegna nuove tecnologie per l'educazione e la formazione e il ricercatore Gabriele Viaggini, anche lui conduce attività presso il laboratorio di tecnologie dell'educazione dell'Università degli Studi di Firenze. Prima tappa quindi vi dicevo di un percorso in cinque incontri, alcune informazioni tecniche avete a disposizione, siete tantissimi e di questo siamo molto contenti, avete a disposizione un'area domande e risposte per porre le domande alle quali dalla regia poi proveremo a dare le risposte, la registrazione di questo webinar e anche dei prossimi verrà poi messa a disposizione sul sito Sapere Coop e vi ricordo anche questo era citato nel programma, non c'è un riconoscimento di crediti informativi, tuttavia se c'è necessità di un attestato di partecipazione potete scrivere una richiesta alla infochiocciola saperecocco.it, indicherò poi in chat questo link, questa mail. vi lascio ai relatori, buon webinar. Grazie Carmela per questa introduzione, è un piacere e un onore per me proseguire questa collaborazione con voi per lavorare sui temi della cittadinanza attiva e io credo e cercherò di dimostrarlo nel tempo che ho a disposizione che questo percorso che svolgeremo insieme attraverso questi cinque webinar ci porterà appunto a maturare una maggiore consapevolezza su questi temi proprio nell'ottica della cittadinanza attiva e consapevole. Cinque webinar, questo è il primo, da dove partire? Va da sé che un ciclo di webinar sull'intelligenza artificiale a scuola non può che partire con un tentativo per quanto eh diciamo grossolano eh dato il tempo a disposizione ma poi ci sono tanti strumenti che abbiamo anche realizzato attraverso di poter approfondire da dove partire da una definizione. Eh impresa ardua ehm ancorché per certi aspetti eh come dire è ovvio che si parte eh dalla dalle definizioni. Eh dicevo impresa ardua perché eh come eh vedremo attraverso il il percorso che faremo questa impresa appunto si presenta ardua perché? Perché eh si tratta no? Di eh un ambito quello della ricerca sull'intelligenza artificiale che ha conosciuto eh alti e bassi eh nel tempo. Eh qui eh una ricerca in questo settore prende l'avvio, prende le mosse eh negli anni cinquanta eh alternando eh quelli che metaforicamente sono stati definiti inverni e primavere quindi stagioni diverse e nelle diverse fasi eh è stata posta attenzione, enfasi ad aspetti differenti, ieri ad esempio eh sul pensiero computazionale, oggi su approcci eh data driven eh lasciandosi un po' così guidare dai dati. Eh altri elementi eh di complessità che rendono difficile fornire una definizione soddisfacente sono legati anche alla pervasività dell'intelligenza artificiale. Eh tratto, aspetto questo che la rende per così dire mh inafferrabile, è invisibile eh così tanto per capirsi, per intendersi dall'interrogazione di un motore di ricerca eh alla traduzione automatica di un testo, alla interazione con Alexa, ecco in tutti i casi stiamo parlando di azioni che si basano eh su applicazioni di intelligenza artificiale ma eh si manifestano sotto eh forme diverse. Eh c'è poi quest'altro aspetto di complessità eh che eh riguarda il mimetismo della intelligenza artificiale. Si dice appunto che essa è intrinsecamente mimetica, cioè in grado di eh generare risposte eh simili a quelle eh a quelle umane. Eh pensate a chat GPT eh sistemi come chat GPT sono stati proprio progettati per generare risposte che si avvicinano molto a alla comunicazione umana e e questi sistemi incarnano eh in modo molto eh efficace questa questa idea quella del eh mimetismo e attraverso il mimetismo eh non soltanto eh l'intelligenza artificiale sembra eh ingannarci eh ma noi rischiamo anche di auto ingannarci perché chiediamo all'intelligenza artificiale di fare cose che non le pertengono. Eh infine poi c'è un ulteriore elemento che viene spesso trascurato e che riguarda proprio il modo di concepire la relazione la relazione stessa tra noi e l'intelligenza artificiale l'uomo e la macchina che diciamo è sempre meno riconducibile a delle visioni antropocentriche eh basate proprio su un'idea di eh supervisione, subordinazione e controllo della macchina mentre invece sempre più questo rapporto assomiglia a un atto di cooperazione, a un atto cooperativo proprio come quando interagiamo no? Con eh chat GPT eh e eh il il modo in cui poniamo domande eh influisce proprio sull'esito di questa interazione quindi insomma non è facile per tutte queste ragioni fornire una definizione ma noi da qualche parte dobbiamo partire e da dove partiamo? Intanto partiamo da un fatto eh quando è stata coniata questa espressione? Ecco pure nella complessità eh degli aspetti che abbiamo menzionato eh da un punto di vista per così dire filologico questa espressione è stata coniata nel millenovecentocinquantasei da John McCarthy eh nel eh celebre eh seminario di Dark Mouth che viene un po' considerato eh come dire fondativo rispetto quantomeno alla formalizzazione del campo di ricerca e per eh McCarthy l'intelligenza artificiale eh si basa proprio sull'idea che l'intelligenza possa essere rappresentata con una tale precisione per cui una macchina se viene opportunamente progettata è in grado di emularla. Questo tema il tema dell'emulazione è una delle costanti eh eh nella riflessione eh intorno alle peculiarità dell'intelligenza artificiale al punto che eh possiamo dire che è una definizione assolutamente eh accettata anche a livello proprio a livello internazionale dell'intelligenza artificiale come disciplina come campo di ricerca la definisce appunto come quell'area che eh che si occupa quel campo di studi che si occupa di teorie eh di metodi di tecniche che consentono eh di progettare hardware e sistemi hardware e sistemi software in grado di far realizzare al calcolatore delle prestazioni che ad un comune osservatore sembrerebbero essere di esclusiva pertinenza umana. Nel tempo poi l'interesse eh per l'intelligenza artificiale eh è uscito eh dai laboratori eh universitari eh e oggi molte definizioni eh che spesso vengono anche citate eh provengono da organismi internazionali come eh l'UNESCO, l'UICD, l'Unione Europea. Quindi come dire dal cinquantasei ad oggi eh abbiamo assistito ad un proliferare di definizioni eh proprio realizzate, prodotte, messe appunto da esperti del settore poi da un certo punto in poi eh la perversività di queste applicazioni ha condotto proprio eh le organismi internazionali ad intervenire e diciamo a formulare delle definizioni che ora ritroviamo anche eh diciamo in anche i lavori accademici e una citazione che possiamo prendere come riferimento è quella che trovate in questa slide che appunto recita eh un sistema in grado di percepire, interpretare, ragionare e agire nel mondo fisico o digitale e in grado di imparare e adattarsi in base alle proprie azioni e alle risposte eh dell'ambiente ragionamento, apprendimento, azione, sono tutte parole chiave che racchiudono l'universo semantico attualmente associato al concetto di intelligenza artificiale dove un ruolo importante è eh anche eh diciamo rivestito dall'agire vorrei sottolineare questa parola dall'agire un agire che quindi anche sottintende o comporta un decidere distrosciato dall'intenzionalità vera eh novità dell'attuale scenario secondo il filosofo dell'informazione Luciano eh Floridi. Quindi insomma eh siamo in presenza di un campo eh complesso in cui diciamo le definizioni sono necessarie eh sappiamo che ci muoviamo tra eh semplificazioni che rischiano di ridurre la complessità però ci pare insomma che questo che aver tratteggiato i pericoli di un approccio definitorio e dall'altra parte aver richiamato questa lunga tradizione che dagli anni cinquanta ad oggi ha provato a definire questo costrutto eh eh riesca in qualche modo eh a fornire un'idea della complessità di cui ci stiamo occupando. E veniamo eh e veniamo ora al rapporto tra eh eh intelligenza artificiale ed ed educazione. Questo rapporto si può declinare eh in molti modi eh ehm noi qui ci soffermiamo ci soffermiamo in particolare su due principali prospettive eh che possono interessare eh questi due mondi eh all'intersezione tra i loro campi di interesse e anche obiettivi. Diciamo una eh prima eh prospettiva è quella riconducibile al insegnare l'intelligenza artificiale. Mh eh una prospettiva in cui l'intelligenza artificiale costituisce l'oggetto stesso su cui insiste il percorso formativo. Ecco noi attraverso questo primo ciclo di webinar ci soffermeremo proprio su questa dimensione. Eh si tratta eh di una diciamo mh prospettiva che guarda l'intelligenza artificiale nell'ottica di eh equipaggiare abbiamo usato qui questa espressione gli studenti eh diciamo dei concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale delle grammatiche dell'intelligenza artificiale del suo funzionamento eh e anche diciamo di analizzare quelle che sono le implicazioni etiche e sociali eh della intelligenza artificiale. Quindi eh diciamo questa prima linea di interesse che vede convergere l'intelligenza artificiale del mondo educativo eh mira a formare come potete appunto leggere qui individui consapevoli e informati sulla presenza dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana quindi cerchiamo di in qualche modo rendere visibile l'invisibile per così dire eh attraverso uno sguardo che diciamo non si limita per così dire agli aspetti tecnicistici ma eh che mira a a diciamo a a realizzare una comprensione proprio più profonda eh di quello che c'è dietro e al contorno eh del eh mondo dell'intelligenza artificiale. Quindi diciamo questo primo ciclo di webinar oggi è solo eh quello introduttivo che in qualche modo getta le basi per i webinar successivi e soprattutto eh cerca di mh condividere anche con la platea, col pubblico una cornice eh pedagogica all'interno della quale iscrivere questo discorso, questo percorso sull'intelligenza artificiale eh perché dovremmo chiederci anche perché dovremmo occuparcene e come possiamo occuparcene. Una seconda declinazione eh vede l'intelligenza artificiale in ottica strumentale, cioè l'intelligenza artificiale come eh una applicazione ehm utilizzabile a supporto dei eh processi di insegnamento e apprendimento. Quindi eh questa è la prospettiva dell'insegnare con l'intelligenza artificiale e non su o di intelligenza artificiale. Eh nel gergo noi parliamo in questo caso di AIED, Artificial Intelligence in Education eh e eh qui eh diciamo eh parliamo di un ambito eh su cui nel quale si stanno sviluppando molte esperienze e applicazioni eh un ambito in cui le tecnologie di intelligenza artificiale vengono appunto viste come eh strumenti pedagogico didattici finalizzati a migliorare il processo d'apprendimento con una particolare attenzione al supporto e alla personalizzazione. E in questo caso eh l'intelligenza artificiale viene vista come un alleato nell'esperienza educativa eh cercando di sfruttare delle opportunità eh pur diciamo tenendo eh sotto controllo i rischi che questo eh tipo di impiego comunque solleva e quindi eh diciamo la seconda prospettiva sarà oggetto di eh ulteriori approfondimenti in futuro. E veniamo eh ora a un altro eh tema eh che in apertura a questo ciclo eh di seminari online eh è importante un altro tema un'altra domanda eh ehm perché ecco perché la scuola dovrebbe occuparsi di promuovere una literacy di base sull'intelligenza artificiale? Io credo che eh diciamo anche questo sia un interrogativo fondamentale fondamentale anche proprio fondativo eh rispetto al percorso che stiamo eh compiendo e per rispondere a questa domanda credo che sia eh utile eh richiamare eh richiamare alcuni alcune delle visioni dominanti eh relativamente al rapporto tra bambini adolescenti e calcolatori eh tecnologie computer. Eh da una parte eh possiamo ad esempio eh richiamare eh richiamare eh autori come Tisserone eh Tisserone è un noto psichiatra francese il quale ad esempio raccomanda di non esporre i più piccoli alle tecnologie digitali e suggerisce più che suggerisce raccomanda che in questo caso gradualità eh nel eh nel far utilizzare eh le tecnologie digitali ai bambini fino ai duodici anni. Le tappe anagrafiche eh indicate sulla copertina di questo suo volume che è stato tradotto anche in italiano stanno proprio a rappresentare quest'idea di gradualità. E dall'altra eh troviamo autori tipo Prensky no? Eh che eh diciamo eh qualche anno fa con il mantra dei nativi digitali eh autori come lui hanno negato almeno inizialmente la necessità di un incontro eh educativo tra adolescenti e tecnologie educativo nel senso di formativo perché perché le nuove generazioni secondo Prensky parlano naturalmente la lingua dei media digitali. Prensky stesso ha rivisto questa posizione successivamente ma insomma eh inizialmente l'idea di Prensky era proprio questa eh le nuove generazioni parlano naturalmente il linguaggio dei media digitali e proprio per questo le nuove generazioni non eh necessitano di una alfabetizzazione eh digitale eh possono quindi usarle perché già le usano eh comunemente. Bene da che parte sta? Mh? Eh per semplificare a ragione esisterò a ragione eh Prensky beh allora eh io eh credo che le raccomandazioni di Tisseron eh non siano prive di fondamento e non costituiscano semplicemente risultato di una eh visione aprilisticamente ostile alle tecnologie e tuttavia e tuttavia questo vorrei sottolinearlo oggi è difficile sottrarsi al confronto eh con una tecnologia che è sempre più inafferrabile sempre più invisibile come abbiamo detto in apertura eh a questo eh seminario e eh poiché non crediamo no nel che le che le attitudini critiche che le attitudini eh consapevoli verso le nuove tecnologie si sviluppino in modo naturale eh riteniamo che l'assenza di una mediazione pedagogica di una mediazione educativa tra le tecnologie anche quelle di intelligenza artificiale da una parte e bambini e adolescenti dall'altra rischi eh rischi di generare un grande assente quale la cittadinanza consapevole quindi questo questo progetto eh di promuovere l'alfabetizzazione critica all'intelligenza artificiale nella scuola eh ha a nostro avviso e quindi qui ho anche riportato la copertina del nostro volume ha eh a nostro avviso in ultima analisi proprio l'obiettivo di favorire lo sviluppo di quelle infrastrutture critico cognitive necessarie per usare l'intelligenza artificiale piuttosto che esserne usati eh in eh poche parole per essere cittadini attivi nell'era digitale. Ecco con questa prima eh parte il webinar articolato in tre parti eh ho provato proprio a introdurre eh il questo ciclo di webinar con una definizione condivisa intelligenza artificiale e con una riflessione sulla razio pedagogica che eh ci porta a ritenere importante oggi preparare i nostri studenti ad interagire in modo critico e consapevole con le tecnologie di intelligenza artificiale. Sono arrivate alcune domande intanto ti ringrazio anche personalmente per questa densa e chiarissima introduzione a un tema così complesso con l'intelligenza artificiale e alle sue declinazioni in ambito pedagogico abbiamo raccolto alcune domande dal dal pubblico eh su temi che hai già accennato e su cui forse è opportuno per il Puglio avere un chiarimento. Una la prima domanda riporta perché un docente dovrebbe occuparsi di eh literasi cioè di insegnare su e di intelligenza artificiale e e non solo di AIR ovvero utilizzare l'intelligenza artificiale solamente come strumento. non so se ci sono altre domande magari vediamo tutte e due così. Allora sì sì l'altra domanda invece è appunto su questo ultimo tema in relazione al tema della mediazione educativa quali metodi si potrebbero utilizzare in classe? Allora mh per quanto riguarda la prima domanda eh ecco mi mi viene in mente proprio Umberto Eco che diceva sì eh utilizziamo pure la televisione eh per formare i cittadini eh pensiamo all'esperienza non è mai troppo tardi e al maestro Manzi eh dice però eh prima di utilizzare questo mezzo per insegnare eh è importante capire in che modo funziona questo mezzo eh quindi mh alla stessa maniera mi viene da dire ecco eh se eh vogliamo eh cimentarci confrontarci con le opportunità che le tecnologie di intelligenza artificiale possono offrire al mondo della scuola dal punto di vista strumentale è prima importante capire come questi strumenti funzionano come questi strumenti mediano il nostro rapporto con la realtà quindi lavorare sull'alfabetizzazione di base all'intelligenza artificiale vuol dire eh mettere in grado eh i nostri studenti proprio di capire qual è questa funzione di mediazione che esse queste tecnologie svolgono eh nel nell'accesso nel rapporto col mondo eh è una una relazione importante eh perché appunto di mediazione per quanto riguarda eh il come insegnare ecco ovviamente eh la risposta dipende dalla dalla domanda che cosa stiamo insegnando dell'intelligenza artificiale intelligenza artificiale non è eh un costrutto monolitico dal punto di vista delle componenti che si che che la costituiscono anche le dal punto di vista della della sua insegnabilità cioè ci sono conoscenze di base ci sono delle competenze di di carattere più procedurale quindi bisogna capire di che cosa stiamo parlando se stiamo parlando di aspetti eh più di comprensione eh eh si può fare riferimento a delle tecniche che che provengono anche da ambiti che solo apparentemente sono distanti per esempio eh la philosophy for children eh che ci può permettere di coinvolgere eh i bambini e gli adolescenti in una riflessione su che cos'è l'intelligenza eh quindi parliamo di intelligenza artificiale ma forse bisogna partire da una riflessione più generale di che cos'è l'intelligenza allora tecniche di questa natura la discussione possono alimentare sul piano didattico l'avvicinamento degli studenti a questi temi o eh se si pensa ad aspetti di natura più etica quindi aspetti più controversi eh si può fare riferimento a delle tecniche eh diciamo che 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 meglio si prestano eh per la per strutturare una una discussione penso al debate eh penso eh quindi a momenti dialogici strutturati in cui eh l'analisi di posizioni contrapposte sui temi eh molto controversi eh può facilitare l'approfondimento delle argomentazioni a favore e argomentazioni contro. Nel mezzo eh c'è uno spaccato eh molto ampio e diversificato di ulteriori conoscenze che possono eh richiedere eh ulteriori tecniche eh che mh che 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 sicuramente questo sì lo devo dire lavorando su aspetti critici lavorando su eh sviluppo di competenze e capacità cognitive eh diciamo eh piuttosto eh avanzate ecco sono tecniche eh di carattere meno trasmissivo per così dire e più orientate alla alla soluzione di problemi all'inquiry alla ricerca alla riflessione quindi diciamo che eh anche nel nel volume che abbiamo scritto le la proposta le proposte di tipo didattico che accompagnano eh la presentazione dei diversi costrutti coinvolte coinvolti sono sempre proposte eh che mh guardano a didattica attiva ad una didattica eh che coinvolge lo studente in un processo di costruzione di conoscenza eh attraverso la scoperta attraverso l'esperienza attraverso eh il dialogo quindi eh in in sintesi ecco è una didattica eh della partecipazione e della riflessione critica condivisa bene io direi che con questa prima parte abbiamo introdotto il nostro ciclo di di seminari eh che per completare diciamo la presentazione abbiamo necessità di strutturare il dominio di conoscenza di cui andremo ad occuparci a questo scopo eh passo la parola al collega eh Stefano Cuomo che introdurrà proprio gli ambiti eh di conoscenza su cui eh riteniamo necessario soffermarsi per una litera sì consapevole sull'intelligenza artificiale. Prego Stefano. Stiamo parlando appunto di insegnare di intelligenza artificiale. Eh sappiamo tutti che eh l'intelligenza eh artificiale è un dominio su cui abbiamo tutti a che fare tutti ora parlano di intelligenza artificiale qualunque libro qualunque trasmissione televisiva parla di intelligenza artificiale. Come è stato detto prima non è neanche facile dare una definizione onnicomprensiva dell'intelligenza artificiale perché questa può essere vista sotto diversi aspetti. Se dovessimo dire che cos'è che eh caratterizza l'intelligenza artificiale soprattutto quella diciamo eh post chat GPT per utilizzare un termine che ormai è familiare a tutti potremmo dire che questa è caratterizzata eh sostanzialmente da eh una complessità intrinseca quello che eh veniva eh veniva quello che veniva detto prima ovvero il il fatto che eh l'intelligenza artificiale è intrinsecamente è intrinsecamente mimetica non riusciamo chiaramente a definirne i confini e soprattutto è un dominio che si sta eh evolvendo rapidissimamente. Eh per tanto per citare una cosa che è comune veramente a tutti chat chat GPT eh se eh pochi mesi fa un anno fa chiedevamo ai nostri studenti chi conosceva chi aveva utilizzato chat GPT un anno fa alzava la mano il cinque dieci per cento degli studenti quest'anno alzato la mano l'ottanta al novanta per cento sono strumenti che sono complessi che si diffondono con una velocità veramente eh eccezionale e che pervadono tutte le nostre vite per cui in questo scenario questo scenario completamente eh complesso per certi versi anche frammentato come è che noi possiamo parlare di insegnare in maniera corretta di intelligenza artificiale. Come possiamo stabilire eh una AI literacy un'alfabetizzazione critica che sia un'alfabetizzazione in un certo senso efficace? Ecco eh per questo è necessario che eh una alfabetizzazione critica all'intelligenza artificiale abbia necessariamente una prospettiva di carattere multidimensionale ovvero una prospettiva che non si limiti solamente ad investigare che ne so un aspetto tecnico tecnologico o un aspetto di carattere etico o sociale ma sia un quadro di obiettivi didattici che abbia una prospettiva intrinsecamente eh multidimensionale in cui queste dimensioni secondo cui nel nostro libro abbiamo ipotizzato questo quadro di riferimento l'intelligenza artificiale appunto si può eh declinare. Abbiamo quindi definito e è quello il diciamo l'obiettivo principale di questo mio eh intervento abbiamo quindi definito un framework un framework che in termini educativi è una definizione quadro di obiettivi pedagogici che si deve porre una eh appunto un'azione pedagogica per offrire una eh dei risultati efficaci. In questo caso se noi parliamo di intelligenza artificiale questa prospettiva multidimensionale che noi abbiamo individuato sulla base sostanzialmente della letteratura corrente è eh un framework che si basa su eh i principi fondanti dell'intelligenza artificiale come anche si sono sviluppati da un punto di vista storico ovvero sulle abilità operative, sulle capacità di impiego consapevole, sulla valutazione critica delle implicazioni dell'intelligenza artificiale e infine la capacità di eh utilizzare intelligenza artificiale in maniera eticamente eh responsabile. premettendo che quando parliamo di AI literacy ovvero di alfabetizzazione critica dell'intelligenza artificiale facciamo riferimento a un termine che è un termine di abbastanza recente, è stato identificato, coniato per la prima volta nel duemila nel duemilasedici il concetto di literacy ovvero con una approssimativa traduzione italiana alfabetizzazione non è un concetto nuovo in ambito eh educativo. Si pensi alla digital literacy, alla media literacy e alla data literacy. Ecco, quando parliamo di AI literacy, alfabetizzazione critica, all'intelligenza artificiale ci chiediamo appunto quali sono gli ambiti, quali sono le dimensioni secondo cui noi possiamo chiedere a un insegnante di insegnare sull'intelligenza artificiale. E eh queste dimensioni che noi abbiamo individuato sono quattro eh dimensioni. Una dimensione conoscitiva che sostanzialmente si focalizza sulla comprensione dei concetti fondamentali dell'intelligenza artificiale sulle conoscenze e sui costrutti di base. Una dimensione operativa ovvero saper utilizzare le tecnologie di intelligenza artificiale in modo efficace nei diversi contesti in cui l'intelligenza artificiale opera e come ho accennato prima sappiamo che l'intelligenza artificiale opera in tantissimi contesti della vita quotidiana da eh i risponditori automatici Alexa e e compagnia fino ai navigatori satellitari fino ai sistemi che che ci suggeriscono i film o le serie preferite sui sulle piattaforme eh di streaming. Quindi dobbiamo saperli utilizzare in maniera corretta per trarne il massimo vantaggio. Ne abbiamo una dimensione critica che eh è focalizzata sul sapere comunicare e collaborare in maniera consapevole ed efficace e valutarne i suoi output, le sue uscite in maniera critica perché come accenneremo oggi ma come vedremo anche soprattutto nelle eh prossime appuntamenti del seminario non tutto ciò che genera l'intelligenza artificiale è oropolato anzi tutt'altro è necessario e soprattutto per un insegnante eh saper insegnare che ciò che è fornito come risposta da un'intelligenza artificiale non è sempre anzi direi personalmente non è mai da prendersi così com'è ma va eh analizzato e incorporato in maniera critica. Ed infine la dimensione etica che è una dimensione che sembra assai distante da un tema tecnologico eh e magari lo era per per le altre literacy tecnologiche forse che ho citato prima ma è un tema che invece è centrale all'interno dell'intelligenza artificiale perché sostanzialmente per il carattere intrinsecamente mimetico ovviamente l'intelligenza artificiale per cui eh talvolta e questo non solo per l'utente medio ma talvolta anche per eh l'utente esperto non è facile e vorrei dire più passa il tempo è sempre meno facile capire se io interloquisco con una persona o interloquisco con l'intelligenza artificiale. Si pensi ad esempio ai famosi chatbot o risponditori automatici che ormai molte aziende soprattutto all'estero utilizzano per il rapporto con con i clienti che si sono molto evoluti dal vecchio per parlare con un operatore premere tasto uno e ora danno delle risposte e parlano o almeno imitano il parlare umano imitano le risposte umane per cui questo capite che pone dei problemi etici come pone dei problemi etici anche il fatto che l'intelligenza artificiale come ci viene detto in continuazione dai gli organi eh di informazione non voglio dire può mettere a rischio posti di lavoro ma sicuramente porterà una forte riconsiderazione di alcune professioni ecco eh entriamo ora nella una definita una analisi un po' più approfondita delle di queste quattro dimensioni del del framework ricordando che eh ad ognuna di queste dimensioni sarà dedicato un eh puntamento specifico di questi eh seminari e quindi quella che vi sto proponendo oggi è una visione di insieme che però che poi sarà articolata e dettagliata nelle settimane successive partiamo eh dalla dimensione conoscitiva o dimensione eh cognitiva è è la dimensione che eh riguarda la comprensione delle idee fondamentali dell'intelligenza artificiale perché intelligenza artificiale ricordiamoci è nata comunque in ambito tecnologico e si è evoluta in ambito in ambito tecnologico è in questo senso uno strumento come lo è eh gran parte o se vogliamo tutta la tecnologia per cui dobbiamo eh averne una conoscenza se non una conoscenza dei principi di funzionamento perché questi principi di funzionamento possono richiedere delle preconoscenze tecniche e matematiche di livello abbastanza eh elevato da scuola secondaria superiore a da università la comprensione di alcune idee concetti di base dell'intelligenza artificiale invece non richiedono conoscenze tecnologiche eh particolari cosa vuol dire questo cosa eh potremo porci come obiettivo tecnologico in termini di eh domini di di eh obiettivi di insegnamento ad esempio le definizioni e diversi tipi di intelligenza eh artificiale come sappiamo ci sono diversi tipi di intelligenza anche perché questo è un termine che come è stato eh detto nell'intervento precedente è stato introdotto nel millenovecentocinquantacinque da McCarthy o e anche precedentemente nel millenovecentocinquanta è stato in qualche modo teorizzato da da Alan Turing quindi non è eh un un ambito nuovo un ambito che si è evoluto nel tempo e si è evoluto sostanzialmente in due principali direzioni una direzione che è quella che è diciamo la programmazione delle macchine in modo che queste dessero delle risposte sempre più simili a quelle che ci potevamo aspettare da un'intelligenza umana per citarne alcuni sistemi esperti eccetera e il famoso machine learning o apprendimento automatico che si è sviluppato particolarmente nell'ultimo decennio quindicennio eh che si basa su eh la eh disponibilità da parte delle macchine di una serie enorme di dati rispetto a quello che potevano esserci vent'anni fa o trent'anni fa principalmente per il fatto che le reti sociali e la diffusione degli dispositivi elettronici che colloquiano con l'infosfera per usare un altro termine eh coniato da da Luciano Floridi siamo noi che alimentiamo questo 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 infosfera e con questa infosfera le macchine hanno potuto avere una base di dati enorme su cui sviluppare il loro apprendimento ma anche parlare di a cosa può eh essere utile l'intelligenza artificiale quali sono i domini applicativi ad esempio per citarne alcune la visione artificiale il riconoscimento vocale la traduzione eh automatica e anche ultimamente la generazione eh di testi eh immagini per quanto riguarda invece la eh dimensione operativa questa è forse la dimensione più eh familiare cioè come utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale anche qui dobbiamo fare un caveat perché se pensiamo a quella che poteva essere soprattutto negli anni ottanta novanta una eh digital literacy cioè un'alfabetizzazione all'uso del calcolatore e ripeto mi riferisco ai primissimi personal computer che cominciavano a diffondersi in ambito domestico e lavorativo eh io appartengo a a quei tempi e mi ricordo che allora c'erano delle grandi barriere all'ingresso ovvero saper insegnare come si utilizzava ad esempio un computer eh un sistema operativo DOS per chi l'ha conosciuto dei primi sistemi Windows o anche se vogliamo per i più giovani i primi smartphone e beh non era facile c'erano dei bei manuali di istruzione l'intelligenza artificiale invece pone a disposizione degli strumenti molto più immediati semplicemente su chat GPT si digita il cosiddetto prompt una domanda che noi digitiamo in linguaggio naturale addirittura ci sono dei cosiddetti plugin delle applicazioni con cui io posso parlare a chat GPT e lui mi può rispondere con una voce sintetica quindi sembra tutto molto facile ebbene no perché in realtà saper utilizzare in maniera propria uno strumento di intelligenza artificiale non è così banale e lo sa chi eh di chi ci ascolta mai provato a utilizzare un per esempio un chat GPT sottoponendogli un prompt beh se eh vuole avere una risposta che sia una risposta non banale ma una risposta ad esempio professionalmente utilizzabile sa che ci deve lavorare sopra quindi anche l'utilizzo degli strumenti di intelligenza artificiale anche se ha delle barriere all'ingresso abbastanza basse nel senso che non ha necessità di preconoscenze particolari come poteva ad esempio ripeto eh essere l'informatica di trenta o quarant'anni fa ciò nonostante richiede delle eh pratiche delle tecniche per essere utilizzata eh almeno la terza dimensione del framework è quella eh critica quella critica che come ho detto prima è una dimensione che si lega sostanzialmente al fatto che l'intelligenza artificiale è pervasiva e mimetica imitativa di risposte che potrebbero essere umane eh questo comporta una serie di eh implicazioni che possono essere sia a monte dell'intelligenza eh artificiale nel senso chi sviluppa questi sistemi sia soprattutto a vale cioè di chi li utilizza perché eh per citare un esempio un dei temi più eh dibattuti all'interno delle risposte dell'intelligenza artificiale è il cosiddetto un termine inglese bias che ha una traduzione che noi possiamo che polarizzazione e ma io preferisco chiamare con un termine più pedagogico stereotipo eh è stato fatto ad esempio una ci sono diversi articoli eh un articolo eh statunitense dove voi sapete non non c'è all'interno dei sostantivi una differenza di genere e eh una giornalista ha chiesto a certi insomma l'intelligenza artificiale di generargli l'immagine di un dottore doctor ecco le prime immagini che ha avuto sono state quelle di un dottore eh maschio pirazza di bianca carnagione bianca caucasica poi le ha detto fammi o no fammi una donna e le ha fatta anche questa di etnia caucasica per avere una donna di eh carnagione scura posso dire così per non entrare nel nel dettaglio diciamo dell'etnia per avere una donna di carnagione scura ha dovuto in qualche modo forzare l'intelligenza artificiale cosa significa questo significa che l'intelligenza artificiale ha delle polarizzazioni se io la utilizzo in maniera critica chiaramente posso essere rinforzato nello stereotipo e tutti i dottori sono meschi e sono bianchi ed infine l'ultima dimensione che è la dimensione etica perché eh la di l'intelligenza artificiale noi lo sappiamo viene sempre più utilizzata o almeno c'è in qualche modo si auspica c'è la tendenza a utilizzare l'intelligenza artificiale all'interno di processi che sono processi che sono fondamentali per la sfera dell'individuo ad esempio si può utilizzare l'intelligenza artificiale in teoria lo si potrebbe già fare forse qualcuno lo fa per fare una selezione di candidati all'interno di un posto di lavoro oppure eh su questo ci sono dei dibattiti per affiancare ad esempio una corte di giustizia per analizzare una un caso complesso di un caso di giustizia e quindi suggerire se l'imputato è colpevole o innocente ma voi capite bene capiamo bene che se la decisione dell'intelligenza artificiale è viziata da quel bias da quegli stereotipi che abbiamo accennato prima è chiaro che la questione dell'output dell'uscita della risposta dell'intelligenza artificiale può sollevare delle forti questioni e quindi cosa dobbiamo insegnare dobbiamo insegnare che è importante avere presente che e questo non lo diciamo solamente noi ma lo dicono a questo punto lo dice la commissione europea lo dicono i grandi eh organismi a livello internazionale che se l'intelligenza artificiale deve essere un'alleata dell'uomo questa deve essere trasparente deve essere equa deve essere responsabile e soprattutto visto che abbiamo eh parlato di dati deve tenere conto di eh importanti questioni di privacy dei dati di sicurezza dei dati sia nella gestione che nella restituzione eh agli utenti e senti la uno degli aspetti più interessanti che vedo che ha suscitato curiosità è quando appunto parlavi di eh AI generativa come c'ha GPT e quindi ci chiedevano in ottica del del framework perché hai mostrato la creatività quindi la parte di composizione della musica canzioni immagini insomma in generale la la generazione di prodotti creativi dove potrebbe stare all'interno del framework? Eh allora dove sta come ho detto prima banalmente tutto ciò che facciamo con l'intelligenza artificiale eh sta in nella parte operativa perché se la utilizziamo come come strumento uno potrebbe pensare che sta lì ma è eh è importante anche eh dire che se noi utilizziamo l'intelligenza artificiale se noi facciamo un'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale non ci proponiamo solamente di eh fare delle cose ma di farle in maniera eh critica di eh quindi eh dove sta secondo secondo me sta un po' dappertutto nel senso che se è in qualche modo scontato che gli aspetti di creatività ad esempio fare un'immagine come dicevo prima per saper fare un'immagine dobbiamo saper fare un certo prompt e quindi sta nella parte operativa d'altra parte noi dobbiamo anche sapere eh avere eh fare riferimento alla dimensione conoscitiva perché noi dobbiamo sapere ad esempio almeno a grandi linee che cos'è che che fa sì che l'intelligenza artificiale ad esempio mi generi un'immagine o un testo anche quali sono i limiti perché l'intelligenza artificiale non è potrei dire grazie a Dio onnisciente e onnipotente ha dei limiti e quindi conoscere i limiti aiuta anche a interagire meglio ma soprattutto eh e questo è il senso che secondo me è anche centrale nella mh IA generativa e quindi della creatività del supporto alla creatività che sicuramente l'intelligenza artificiale può dare e può dare anche all'interno eh della scuola è saper interpretare criticamente i le uscite e saperne valutare le implicazioni etiche eh faccio fatto prima l'esempio del del doctor dell'immagine del doctor generato eh ne faccio un'altra che più recente che ehm chiedendo a l'intelligenza artificiale avevo bisogno di fare una immagine per per una slide gli ho chiesto mi fai un robot e intelligenza artificiale mi ha fatto un robot contratti maschili no Dio guarda io non voglio un robot contratti maschili fammi un robot femmina me l'ha fatto ma me l'ha fatta tutte con i fiocchini rosa cioè questo secondo me eh va contro una eh educazione che sia un'educazione rispettosa del genere ma soprattutto una educazione che eh sia contro gli stereotipi ecco perché dico forse eh cioè si capisce perché la creatività che a cui l'intelligenza artificiale può fornire un supporto è su queste su tutte le dimensioni ne ho tralasciata volontariamente una che è la dimensione etica perché eh perché se riporto il il la prospettiva media educativa se all'interno dei social network era sufficientemente facile ma non immediato creare una fake news creare un contenuto fazullo all'interno con un'intelligenza artificiale è facile creare un contenuto fazullo dico una cosa che può essere banale che però diciamo eh che può interessare l'insegnante ma che è un tema molto eh sentito nell'ambito di ricerca ad esempio se gestito bene eh un chat gpt comunque un'intelligenza generativa di linguaggio può generare un un testo fino a ora il testo eh come è che quando uno aveva scriveva un articolo scriveva una tesi scriveva una tesina un compitino eh si poteva capire se era originale perché riportava le fonti ma ora l'intelligenza artificiale può anche generare fonti fazulle si pone quindi quindi è questo il il anche il l'aspetto etico che io ho delinato principalmente in ambito eh in ambito educativo ce n'è un altro che secondo me è anche di grande interesse proprio a livello didattico cioè vietiamo l'intelligenza artificiale a scuola o la accettiamo e in quest'ultimo caso ovvero se accettiamo l'intelligenza artificiale come ci dobbiamo generativa come ci dobbiamo porre eh per eh incorporare cioè fino a che appunto è lecito incorporare eh i prodotti dell'intelligenza artificiale generativa all'interno di una produzione originale da parte da parte dello studente sappiamo che ci sono diverse posizioni nel mondo che eh fino a ora sono andate nella direzione di bannare proibire l'intelligenza artificiale a scuola secondo me eh una l'obiettivo della parte educativa dell'education cioè di educare a dovrebbe essere proprio dire non vietiamo ma insegniamo ad utilizzarla in maniera corretta e responsabile guarda mi aggancio hai parlato delle dimensioni del fremo perché c'era una domanda che ho ripescato nelle domande risposte che parlava proprio di eh di queste dimensioni ci chiedeva fondamentalmente hanno un hanno un ordine hanno questi differenti hanno una rilevanza differente? Allora eh io le ho presentate queste quattro dimensioni in partendo da una da quella conoscitiva e chiaramente perché l'ordine di presentazione è un ordine lineare ma è come ho detto eh il framework mi eh estremamente circolare e interconnesso perché non c'è nessuna dimensione che è prevalente eh rispetto all'altra quando parliamo di alfabetizzazione critica a l'intelligenza artificiale dobbiamo tenere presente tutte e quattro eh queste dimensioni quindi direi che da un punto di vista di educational framework le due le quattro dimensioni hanno la stessa rilevanza cosa leggermente diversa e forse per questo mi hai fatto la domanda perché conduce poi al tuo intervento cosa diversa è come andiamo a implementare questo framework che ricordo un framework è in qualche modo una costruzione teorica che definisce degli obiettivi poi questa costruzione teorica va implementata in un curriculum didattico e questo è un altro aspetto fondamentale della eh alfabetizzazione critica e questo mi immagino Gabriele come parli nel tuo intervento. Sì sì esattamente io quello di cui vi andrò a parlare adesso fondamentalmente è proprio questo cioè di quelle che vengono chiamate le eh domande aperte dell'AI literacy quindi fondamentalmente sono una serie di eh domande complesse questioni senza una una risposta diretta eh o quantomeno particolarmente ramificate che ehm hanno a che fare con cosa con l'insegnare l'AI. Nella fattispecie io come ve l'ho strutturate? Come tre macro domande principali che però al loro interno hanno varie sottosezioni quindi vedremo di cercare di esplorarle e rispondere insieme a diciamo a queste tematiche eh in maniera più esaustiva possibile laddove comunque è un tema così complesso e così articolato per cui non si riesce cioè ci sono più approcci quindi più strade per per rispondere. La prima delle delle questioni aperte la più classica è proprio relativa a all'età quindi fondamentalmente a quale età possiamo pensare di promuovere la conoscenza dei concetti fondamentali dell'AI e più nello specifico se si può pensare a una eh quella che viene chiamata one size fits all cioè una taglia unica del dell'alfabetizzazione si può pensare di creare un un curriculum di questo tipo oppure ci sono delle delle specificità questa è una grande questione aperta che appunto eh non ha una risposta diretta. In soccorso ci venne cosa? Ci venne la letteratura per esempio c'è un report unesco che vi ho riportato in calce recente del 2022 che eh fa proprio una mappatura dei curriculum dedicati all'AI in ambito K12. Il K12 che cos'è? Il K12 è una classificazione che va approssimativamente per riportarla diciamo in ottica eh chiara a noi dal 5-6 anni a 17-18 anni quindi sarebbe eh eh K stop per kindergarten e 12 è il 12esimo grado quindi questo è il range che potete immaginarvi 5-6 17-18 ecco questo report unesco che cosa fa? Cerca fondamentalmente di andare a eh eh destrutturare gli argomenti fondanti classici dell'AI e farci vedere come eh questi argomenti vengono fondamentalmente riportati in dei curriculum per fasce d'età. Uno dei dei primi argomenti argomenti fondanti è quello degli algoritmi. In che senso? Per esempio le definizioni basilari di algoritmo, le loro prime applicazioni, eh il pensiero computazionale, pensate a Logo, a Papert, ecco che vediamo che in questo report la eh questa parte viene già gestita all'interno di curriculum pensati per la scuola primaria. Similmente le definizioni di AI cioè la sua storia eh fatta dei inverni estate no? Sapete che viene usata la stagionalità per l'aspetto della della storia dell'AI perché come diceva il professor Danieri è materia da già a partire dagli anni cinquanta eh ci sono degli inverni che sono delle sorti di battute di avesto e poi di nuovo delle primavere e delle rinascite. Ecco questa parte di storia può essere già trattata eh all'interno della primaria come le prime tassonomie per esempio la eh diversificazione fra intelligenza artificiale forte e intelligenza artificiale debole. Tutte queste tematiche ve ne ho riportate alcune ovviamente la parte eh diciamo è molto più esaustiva nel report sono già eh pensabili come primi livelli. Ugualmente il record parla di tecnologie di eh di IA quindi questo è il termine che viene utilizzato su che termini per esempio la percezione umana e artificiale quindi la computer vision in cosa differenzia dalla visione umana oppure i primi livelli di eh classificatori i primi alberi decisionali per usare dei termini più più calzanti possono già essere pensati per la scuola primaria. A tal proposito per esempio c'è un curriculum eh online di cod.org che ha proprio un sistema di classificatore spiegato per gli studenti di primaria per darvi un'idea di quanto si può semplificare un concetto per poi portarlo in questa fascia d'età. Aspetti etici quali? Quelli più semplici come la proprietà intellettuale o la sicurezza barra cyber sicurezza anche questi sono pensati per la scuola primaria mentre altre spacciettature degli aspetti etici quelli che vengono definiti sociali come quelli che diceva prima il professor Cuomo per esempio i bias o eh le fake news quindi la disinformazione online questi sono più complessi e sono pensati per esempio per la scuola secondaria. Nell'altra parte della slide vi ho eh riportato la eh framework che avete appena visto e vedete che più o meno in linea con quanto abbiamo appena detto anche il framework come l'abbiamo pensato nel libro anche se nel libro abbiamo eh certi casi semplificato spiegandovi che possono essere utilizzati appunto a più livelli no? Quindi si può complicare un'attività o semplificare un'attività ecco nelle attività riportate vedete che la dimensione cognitiva e operativa si prestano per esempio nei loro esempi già a partire dagli ultimi anni della scuola primaria. La dimensione critica ed etica essendo più complesse richiedendo anche dei gradi di astrazione che magari non sono classici della scuola primaria possono essere appunto a partire dalla scuola secondaria di eh di primo grado. Questo è per darvi uno spaccato ripeto a una domanda che non ha una risposta diretta ma è particolarmente complessa e quindi non c'è un un approccio unico. L'altra classica questione che eh diciamo rimane aperta sul tema di insegnare l'AI è l'aspetto dei prerequisiti. Quindi quali tipi di prerequisiti e eh come dire quanto tecnici questi requisiti sono eh per insegnare per fare cosa per costruire un percorso sulla sulla sull'AI. Non c'è nessun tipo di eh requisito tecnico? C'è qualche prerequisito tecnico? Vi sono molti e quindi prerequisiti tecnici particolarmente elevati? Anche in questo caso eh diciamo la letteratura ci dà eh più scenari. Ci sono vari approcci. Vi è un approccio eh considerato hard eh che eh fondamentalmente vede la AI literacy chiamata anche AIL per questo aver riportato l'acronimo come un campo intrinsecamente tecnico. Cioè non si scappa da eh una da dei prerequisiti particolarmente complessi e di eh scienze hard quindi matematica, statistica eh pensiero computazionale elevato vedete che quando andranno a definirli useranno termini come deep learning e quindi eh apprendimenti particolarmente complessi e matematici e quindi la literacy come viene vista con una robusta base di competenze matematico statistiche e matematiche. Questo approccio che eh è tuttora presente nella diciamo nella visione accademica mette proprio nella nell'alfabetizzazione conoscenze di machine learning eh non supervisionato e deep learning. Quindi fa delle sue come se delle sue conoscenze base delle conoscenze matematico statistiche particolarmente complesse. In contrapposizione a questo filone hard c'è un filone che è decisamente più inclusivo. È un'altra corrente e fondamentalmente che eh che cosa tiene in considerazione. Tiene in considerazione quello che abbiamo detto precedentemente che hanno detto sia il professor Serranieri che il professor Cuomo. La l'AI è tutt'oggi presente in maniera pervasiva nella nostra società e il suo carattere mimetico e diciamo la sua forte diffusione fa sì che un po' tutti dobbiamo in qualche maniera essere alfabetizzati quantomeno a un utilizzo critico. Quindi questo filone cerca ovviamente di trattare l'AI in che cosa? Nella comprensione chiara dei principi delle applicazioni nell'uso quotidiano. Fa proprio menzione di quello che chiamano everyday use. È un po' eh fondamentalmente lo scenario che prima prospettava il professor Cuomo. Vi è una terza corrente che cerca di mitigare queste due correnti che vi ho appena illustrato che eh è quella che fondamentalmente cerca di trovare la eh mediazione nel contesto. Quindi sostiene fondamentalmente che si possono definire i prerequisiti del del AI literacy in base a cosa? In base a chi eh lo utilizza. Quindi propone di diversificare le competenze tra cittadino e sviluppatore. Anche se eh diciamo è una posizione ovviamente di buon senso. Capite che non eh non assolve a diciamo tutte le eh questioni precedentemente dette. Nella fattispecie nel nostro libro ci siamo più volte chiesti diciamo a cosa ci avvicinevamo e eh la professoressa Ranieri quando vi parlava di eh cittadinanza critica e eh diciamo accesso alla cittadinanza e quindi un utilizzo di questa tipologia di di parole di chiave di eh strumenti. Capite che ci avviciniamo decisamente più a una visione inclusiva senza abbandonare il buon senso del del contesto ma con un'attenzione molto molto dedicata al all'aspetto di abilitare le persone all'utilizzo di questi strumenti. Terza questione aperta eh chi insegna l'AI? L'aspetto disciplinare. Quindi fondamentalmente quali sono le discipline le discipline coinvolte nell'insegnamento dell'AI e dobbiamo pensare all'integrazione di una nuova disciplina nel curriculum? Anche questa è una domanda particolarmente complessa. Perché? Perché eh la parola chiave diciamo del dell'AI da quando diciamo è stata coniata sia per i nomi noti che ho cercato di riportarvi eh nel diciamo nelle slide sia anche proprio per la sua storia vedono alternarsi di eh apporti eh molto interdisciplinari. quindi la fondamentalmente uno degli aspetti fondanti della storia dell'AI è questa sua interdisciplinarietà. Tante discipline possono contribuire in maniera differente e in base a prospettive differenti alla comprensione e al funzionamento dell'AI e nelle sue implicazioni. Perché dico questo? Perché ehm se pensate appunto ai non solo ai vari modi in cui ogni disciplina può generare un rapporto ma proprio a eh i vari aspetti che l'AI riesce a toccare nel eh diciamo nelle varie discipline. In che modo come dire sfocia eh nelle varie discipline. Lo stesso record unesco che vi ho menzionato prima ci fa un un esempio molto specifico. Cioè eh va a provare a come dire a prendere un uno più esempi. Io ve ne ho riportato uno e in realtà ce n'è eh una serie. Di un tema classico che potrebbe essere affrontato eh scolasticamente parlando e come le varie discipline possono generare eh dei dei punti di congruenza per andare a affrontare questi aspetti. Per esempio l'esempio che fa è quello sui cambiamenti climatici e l'impatto sociale. Quindi pensare proprio a l'AI dedicata a questa tipologia di eh diciamo di di tema. E ci mostra come per esempio la disciplina della matematica con eh l'insegnamento degli algoritmi in prima in prima battuta e poi i i primi sistemi di classificazione che potrebbe utilizzare l'AI per questo tema può iniziare a generare dei contenuti che eh possono essere presi da altre materie e approfonditi per eh approfondire appunto ulteriormente il tema. Per esempio la geografia che raccogliendo quanto appunto imparato è studiato da dagli studenti a matematica va a fare cosa? Un focus su eh gli effetti cambiamenti climatici e come utilizzare quegli algoritmi visti prima o quelle classificazioni per tentare una predizione. Quindi è come se fosse uno step successivo ma eh andando in un argomento leggermente differente e limito proprio in un'altra disciplina. Ugualmente la disciplina delle scienze potrebbe prendere un caso di studio, questo è l'esempio che fa l'UNESCO, sulla computer vision per la produzione agricola. Sapete che ci sono tanti appunto casi applicati di eh computer vision o di eh AI predittiva no? Per i raccolti, il grado di maturazione, eh la diciamo la complessità del terreno ma anche appunto i rischi idrogeologici. Ecco questo potrebbe essere il tema del del professore di scienze che va a eh diciamo a a trattare questo questo aspetto sempre con il focus su cambiamenti climatici no? Quindi rimane quello il centro, l'AI di sottofondo e costruisce diciamo questo tipo di conoscenza e poi chiude per esempio con eh la materia dell'italiano, quindi la disciplina in italiano che eh propone in questo caso un eh questo è il caso di studio che hanno preso un elaborato sul tema come pensi che l'AI possa risolvere e diciamo e possa aiutare e eh risolvere questo problema. Quindi una un come dire un rapporto interdisciplinare ad esempio di varie discipline per vedere come eh ci può essere una complementarità. Cosa vi dicevo prima? Vi dicevo che la stessa storia dell'AI è fatta davvero di apporti interdisciplinari. In maniera non esaustiva ho messo una raccolta di eh immagini e e di foto di di cosa? Di grandi menti che eh hanno alimentato proprio la la storia dell'AI. Parto da da Alan Turing eh quindi considerato uno dei padri fondatori ancora precedente no? Se pensate all'imitation game e diciamo ai grandi rapporti che ha dato anche proprio di stampo eh di idee per la generazione dell'AI eh era un matematico, un logico, un crittografo, ho messo i puntini perché in realtà ha diciamo tanto si può dire un filosofo eh non si può racchiudere eh in una singola e semplice disciplina. John McCartney, abbiamo parlato prima, un matematico, un computer scientist eh ha cognato il termine e ha dato, ha continuato a dare apporti da punti di vista differenti. Ho parlato di Turing, come non parlare di Searle eh quindi John Searle del filosofo, quello del delle stanze cinesi eh che quanto ha problematizzato l'aspetto per esempio del della comprensione, del significato eh il rapporto diciamo l'esercizio mentale della stanza cinese è un po' in eh in contraposizione se volete anzi in arricchimento del del limitation game e quanto può condizionare no? Un come dire una visione esterna non per forza di scienze hard, eh matematico, scientifico e statistiche e che che risultati porta? Ancora Rosenblatt, psicologo, praticamente padre delle rete neurali, cioè se eh siamo oggi appunto a a livelli così avanzati è perché abbiamo raccolto e teorizzato un un sacco insomma tantissime informazioni, tantissimi approcci di eh di stampo di fronte, nel suo caso psicologo e ancora oggi stiamo parlando di di queste teorie. Ho chiuso con anche un un'ottica critica se volete filosofo, linguista, Chomsky eh tuttora qualche anno fa la critica c'è TGPT ma in generale gli apporti per lo studio di quello che viene chiamata NLP cioè Natural Language Processing è tutto lo studio nel mondo dell'intelligenza artificiale e di come eh diciamo affina e affronta la parte del del linguaggio umano. Ecco tutte queste figure che ripeto in maniera non esaustiva io vi ho citato sono fondamenti di eh arricchimento del campo. È un campo così eh sia in crescita se volete perché ora siamo in un momento di eh viene definita l'estate dell'intelligenza artificiale perché c'è questo trend particolarmente eh di attenzione generale verso l'AI ma in generale ha praticamente ottant'anni, novant'anni di storia eh che davvero apporti differenti hanno generato eh e hanno arricchito il campo in in maniera ogni volta particolare. Ecco con diciamo questo questo tuo intervento eh ovviamente si entra eh diciamo nel merito proprio del di un quale curriculum eh eh quale quale percorso realizzabile concretamente a scuola e abbiamo visto appunto che eh non c'è un'unica risposta eh anche perché poi questi temi possono anche essere affrontati a diversi livelli di complessità eh e quindi eh insomma si tratta anche di riflettere su che tipo di trasposizione didattica operare su questi costrutti eh in relazione all'età ovviamente al di sotto di una certa età certi temi diventano davvero difficili l'hai chiarito molto bene eh soprattutto quando parlavi della questione dell'etica e però eh insomma questa questa proposta non non vuole essere eh definitiva da questo punto di vista quella che tu ci hai mostrato eh e proprio per rimanere nel vivo della concreto ecco mi chiedevo eh ti chiedo eh anche alla luce di quello che ho visto scorrere in chat cercando quindi di sintetizzare eh che ti se ci sono esperienze eh insomma che a cui possiamo fare riferimento insomma eh il tema è nuovo eh l'artificial intelligence literacy è un tema nuovo eh quindi avere qualche eh esperienza a cui fare riferimento per la scuola addirittura qualcuno qui in chat mi ha chiesto anche scuola dell'infanzia eh quindi eh diciamo ci sono esperienze che possiamo in qualche modo eh condividere mh che possiamo conoscere ci sono diciamo buone pratiche e esempi proprio eh di curriculum sia nel nel report che vi dicevo prima appunto sul sul mapping del K12 visto dall'UNESCO sia in un altro documento interessante eh del duemilaventuno dell'UNICEF in questo caso il si chiama appunto policy guidance eh on AI AI for children quindi mh proprio linee guida diciamo istituzionali di policy di di regole per appunto eh l'AI pensata eh in ottica appunto del children e dei bambini allora da un lato la risposta se volete non non vi stupirà eh il mondo asiatico penso a Cina eh Corea Taiwan hanno eh sono particolarmente avanti e hanno degli esempi tangibili eh che possiamo vedere sia appunto in articoli scientifici sia nei vari report lì eh cosa si va a fare si va a fare quello che io vi ho raccontato appunto nel con algoritmi con AI technology in maniera molto dettagliata a partire eh addirittura dall'early child education appunto quindi come dicevamo prima anche da eh davvero all'inizio della primaria eh e addirittura con diciamo supporto dei dei robot e robot educativi eh anche proprio in parallelo all'inizio quindi le primi aspetti di programmazione pensiero computazionale vengono fatti davvero eh diciamo in maniera più generistica molto presto. Quali sono diciamo i principali step? Eh vengono tarati in questa maniera mh c'è un filone che si chiama understand AI quindi la comprensione del delle regole base dell'AI anche in maniera abbastanza giocosa appunto con eh programmazione no per tasselli con robot quindi con supporti tangibili eh anche se volete il Lego Mindstorm è uno di queste tipologie quindi delle delle tipologie di giochi che avvicinano il diciamo il bambino praticamente verso la l'ottica della programmazione perché ricordiamoci che il filone eh diciamo hard quello che dicevo del dell'approccio generale che pensa che il machine learning sia fondamentale è particolarmente di di quel lato quindi il mondo asiatico eh Corea e Taiwan e quindi quell'approccio diciamo teorico lì poi si rivede nei curriculum che portano tanta matematica portano tanto pensiero computazionale portano tanto programmazione fin dall'inizio c'è la c'è un aspetto di dati quindi un eh una parte del curriculum dedicata proprio al ehm a quella aspetto che vi dicevo prima su come il computer vede come il computer legge quindi giocare sulle differenze umano artificiale nella percezione anche in ottica dati lo scordiamoci che diciamo la l'aspetto della della gestione nel machine learning l'aspetto dei dati ma l'aveva già detto la professoressa Ranieri prima è un un una parte molto importante e quindi si cerca in qualche maniera di introdurlo molto presto c'è una parte di machine learning quindi vera e propria eh diciamo ovviamente non spiegata in questi termini ma spiegata come la macchina apprende e quindi quando prima vi dicevo degli strumenti di classificazione si va a fare questo cioè si va a far vedere ai bambini quando vi parlavo di cod.org quel 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 sito che ha questi curriculum eh uno dei primi giochi che viene fatto quindi sempre con la gamification è proprio un gioco di classificazione si chiama AI for Ocean quindi è l'AI pensata per gli oceani e si va tramite questo gioco a insegnare ai bambini a eh far riconoscere al computer quindi a classificare un pesce rispetto a un rifiuto all'aspetto etico se volete quindi fa capire no il problema del dell'inquinamento dell'oceano sporco di tutti questi aspetti importanti per essere umano e per motivi etici ma anche come la macchina apprende nel momento in cui io gli ho messo un'etichetta quindi guarda distingui questo è un pesce questo è un rifiuto cosa succede quando io non faccio vedere tutti i pesci alla macchina che li confonde per qualche cosa altro e quindi si cerca di introdurre appunto questo aspetto etico dei dati del machine learning anche in età precedente e infine l'ultima parte che però come anche nel filone diciamo che mi dicevo il tema asiatico viene trattato più avanti quello che viene definito social impact cioè l'impatto sociale è qualcosa che viene trattato in realtà via via con l'età crescente ok questo diciamo il mondo asiatico e noi europeo abbiamo più diciamo più più nazioni che stanno lavorando a vari livelli la germania è una fra queste ha un diciamo ha un esempio di curriculum nel mondo diciamo nella sezione mathematics e il curriculum si chiama proprio identifying and formulating algorithms quindi mette proprio l'algoritmi al centro ovviamente dentro matematica quindi quello d'approccio però a questo taglio di diciamo generale e il portogallo che viene riportato appunto nel nel report unesco perché dentro un curriculum di ict già nella scuola diciamo fine della scuola primaria ha delle esperienze diciamo e degli insegnamenti di diciamo di ai oltre a questi diciamo di queste tentative che vi ho detto quindi mondo diciamo extra europa e europa sono interessanti tutti quelle tutte quelle diciamo tentativi non governativi come quelli di cod.org il report unesco ne riporta tanti c'è un curriculum online dell'ibm che si chiama edtech appunto cerca di insegnare sono risorse per docenti su per insegnare l'ai già in primary education se no c'è il daily curriculum che è del MIT anche questo si trova diciamo online in versione open e in questo caso è spostato già verso middle o high quindi l'età qui cresce perché entra più nei dettagli del diciamo di aspetti tecnici però ecco per darvi uno spaccato ci sono già tanti piccoli esempi che possiamo vedere appunto o negli stati o in corsi online trasversali molto bene molto bene Gabriele qui eh c'è Francesca Failli che eh ci chiede il riferimento specifico alle linee guida citate per i bambini eh se puoi indicare magari ecco mentre andiamo poi verso la chiusura se puoi indicare il link nella chat eh Francesca Failli e mh mentre eh appunto eh rispondevi io leggevo tutte le domande ehm ci sono molti spunti eh per esempio no eh c'è una una persona che chiede no come si definisce il concetto di eh verità nel mondo del eh deep fake eh ecco per esempio questo eh è un tema molto complesso noi e dall'inizio che usiamo questa parola complessità eh che però non vuole essere un modo per evitare la risposta assolutamente eh anzi eh vorrei anzi proprio vorrei alimentare la vostra curiosità rispondendovi cosa che noi nel quarto webinar eh ci focalizzeremo sugli aspetti più critici sugli usi critici eh e quindi tratteremo anche questa dimensione eh della ridefinizione della verità se vogliamo eh nel contesto eh della in questo contesto eh in questo contesto e pertanto eh anche un'altra persona mi chiedeva eh possiamo avere degli esempi degli spunti eh per un uso critico di questi strumenti i nostri studenti utilizzano già molto eh la per esempio tecnologie eh di eh intelligenza artificiale generativa come c'è GPT quindi eh di nuovo la risposta è noi noi non possiamo eh diciamo eh affrontare tutti questi argomenti in un webinar solo per questo eh queste vostre domande mi permettono di sottolineare anche proprio l'importanza di eh provare a seguire o comunque ascoltare anche in asincrono i i vari seminari perché dalla composizione eh dei 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 singoli eh webinar è possibile avere un quadro più ampio anche rispetto a tematiche su cui avete chiesto approfondimenti nelle risposte nelle nelle nella chat e quindi l'invito davvero è quello a seguire eh i prossimi eh i prossimi appuntamenti eh che entreranno poi nel vivo di tutte queste dimensioni andando proprio a guardare nello specifico implicazioni negative e positive impatti impatti etici impatti sociali anche attraverso eh esempi ed esperienze concrete e c'è per esempio eh anche quest'altro grande quesito che pone Stefano Bergelli alla fine che dice le AI nasce con intenzione aperta OpenAI ora in mano a grandi società private eh quindi pone per esempio tutto il tema del dell'open eh in in questo mondo eh un tema che eh abbiamo pochissimi minuti quindi eh andiamo verso la chiusura un tema che in generale poi ci fa riflettere proprio anche sull'apertura o meno dei dati eh si è parlato di di tante literacy eh perché no anche la data literacy è qui fondamentale ecco la questione eh pubblico privato all'interno di questo universo eh Gabriele eh come come la come la possiamo tematizzare mh ma in una parola spot perché sono diciotte e ventisette e veramente dobbiamo andare a chiudere ma questo è più che altro per dare conto della ricchezza eh dei vostri eh apporti alla discussione attraverso le domande che avete fatto in chat non so se vuoi dire una parola eh il rischio della platform platformization è enorme è diciamo con una parola si racchiude un un grande tema un grosso problema il fatto che appunto c'è un rischio di opacità ci andremo meglio eh le prossime volte però nel momento in cui la piattaforma è chiusa eh tante cose ci sfuggono da un lato proprio l'utilizzo che fa dei dati è vero ci sono le policy ci sono tante cose che sappiamo ma ci manca magari la visione completa della della trasformazione che la la biografia diciamo del del dato che noi diamo subisce e e dall'altro appunto che cosa all'interno come la piattaforma lo riutilizza per esempio per il recommendation system o per nutrire alcune parti di i suoi algoritmi eh è molto interessante e se volete anche molto mh rischiosa o quantomeno apre visioni molto critiche quindi dentro questo termine secondo me ci sta proprio tutta la questione che poi vedremo di appunto approfondire via via che andremo nelle questioni di trasparenza opacità e spiegabilità esatto quindi siamo solo all'inizio eh quindi confidiamo nella vostra eh partecipazione nei prossimi appuntamenti e con questo eh ripasso la parola eh a Carmela per le conclusioni tanto grazie a tutti e a tutte eh per averci ascoltato mi sembra di percepire dalla chat con passione grazie buona serata a te la parola Carmela. Io ringrazio ovviamente voi eh sì è interessante e lo dicono come dire lo dice la partecipazione insomma costante in questa ora e mezza di oltre duecento eh persone quindi vi diamo appuntamento al due maggio alle diciassette per entrare appunto all'interno di ciascuna di quelle dimensioni che di questo framework che vi è stato illustrato in particolare la dimensione conoscitiva con spunti di riflessione da eh come dire da di attività anche didattiche perché nelle domande poi come dire la la curiosità è proprio come si fa e poi come e come possiamo effettivamente con in classe e con gli studenti poter agire quindi diciotto e ventinove dobbiamo salutarci vi aspettiamo in due grazie della vostra attenzione grazie a tutti voi relatori buona serata grazie buonasera buonasera grazie a tutti Grazie a tutti